Un risultato assolutamente non soddisfacente, che non ci lascia affatto soddisfatti, diciamo che è un po' in linea con la serie storica sui territori del Movimento 5 Stelle, dove non avendo delle strutture territoriali non riusciamo certo a brillare, ma sicuramente è un impegno a far di più, ancora di più e anzi vi preannuncio che già da domani avremo i coordinatori territoriali che ci mancano per intavolare un dialogo con i territori molto più costanti e molto più serrato e quello di cui abbiamo bisogno sicuramente. Prendiamo atto del risultato, qualcuno ha visto che già sta facendo le dichiarazioni molto segnala campanelli dell'arme, suona le campagne a morto per il Movimento 5 Stelle, ma io non esagererei la portata che rimane circoscritta sul piano territoriale a queste elezioni, lo dimostra, voi sapete che non presto notoriamente, non faccio grande affidamento sui sondaggi, ma forse qualcuno avrà visto contemporaneamente, poco fa è uscito un sondaggio che ci dà continuo al trend di crescita a livello nazionale, ma questo voglio dire, ripeto, non ci porta a confondere i piani, Lazio e Lombardia sono saldamente nelle mani del centrodestra, anzi ne approfitto per rivolgere un pubblico augurio di buon lavoro sia a Rocca che a Fontana e questo al di là delle differenti visioni politiche, dobbiamo tutti augurarci che possano fare del bene per due comunità così importanti come quella laziale e quella lombarda. Aggiungo che dalle prime dichiarazioni vedo che molti, soprattutto da parte del PD, c'è grande concentrazione sulla nostra performance. Io capisco che il PD è in pieno congresso e ha i suoi problemi interni, però ascoltare il redivivo Letta che sembra voler dalle dichiarazioni entusiastiche stappare delle bottiglie di champagne sulla performance del PD, francamente se immaginiamo in particolare il Lazio dove c'è un candidato indicato da Letta e da Calenda, dopo aver governato per dieci anni, rimediano e consegnano in particolare perché erano loro i vincenti, i uscenti, consegnano la regione al centrodestra, insomma francamente avrei poco da festeggiare al canto loro, però se si accontentano di questo ben per loro. Per il resto continuiamo a lavorare, abbiamo sicuramente nel Lazio siamo stati gli outside, abbiamo messo in campo una proposta che è arrivata da ultimo rispetto a quelle che si erano già consolidate sul terreno, abbiamo costruito per la prima volta un fronte in coalizione con un'area progressista, ecologista di sinistra, è stato un esperimento, un laboratorio a cui siamo stati costretti dalle scelte del PD e il risultato non è soddisfacente ma sicuramente dobbiamo continuare a lavorare, sapete che per noi contano i programmi, a noi non interessa vincere con un cartello elettorale, fermo restando che oggi i risultati ci dicono che i cartelli elettorali non ci avrebbero portato da nessuna parte perché la somma algebrica comunque ci avrebbe dato per perdenti, ma io dico di più, il problema è che in politica conta anche la coesione, la forza delle proposte politiche, evidentemente noi non siamo stati capaci di comunicare ai cittadini la solidità, concretezza del nostro progetto politico, ma sicuramente una cozzaglia, un cartello elettorale, i dati ci dicono anche i numeri che non saremmo andati da nessuna parte, in questo momento bisogna prendere atto che le forze di maggioranza riescono a esprimere anche sui territori, nonostante una divergenza di vedute, e lo vediamo un po' su tutti i temi, nonostante differenti prospettazioni politiche, riescono a presentarsi, evidentemente sono molto abili a presentarsi con proposte che appaiono omogenee agli elettori e per questo vengono premiate in modo anche molto squillante da questo punto di vista. Ovviamente aggiungo un dato che deve far riflettere tutti, è veramente impressionante il dato dell'astensionismo, pensare che nella Capitale abbia votato il 33% nella Capitale d'Italia e che comunque in questa tornata elettorale, pur essendoci due giorni, si è votato su due giorni, si è raggiunto a stento il 40%, è un dato veramente che fa riflettere, 37-40% è un dato che fa riflettere, è una malattia della nostra democrazia, lo sto dicendo non da oggi, la nostra democrazia è malata, dobbiamo assolutamente cercare e qui dobbiamo essere tutti impegnati a farlo, cercare dei rimedi senza buttare la palla in tribuna ma degli accorgimenti che possano far sentire pienamente coinvolti i cittadini in quello che è un dibattito politico democratico e che faccia sentir loro la possibilità, andando a votare, di poter incidere sulle scelte future. Grazie a tutti.